buongiorno sono giannicola di gruppo carmeli ed oggi vi parlerò di fiat 500 x 1000 t3 in allestimento mirror urban look la motorizzazione mille con turbo compressore garantisce un'erogazione brillante e consumi contenuti la dotazione è molto completa e comprende fari full led anteriore posteriore cerchi nega da 17 e finiture satinate sensori di parcheggio anteriori posteriori e retrocamera all'interno troviamo il volante multifunzione con i comandi del cruise control e del computer di bordo monitor da 7 pollici con apple carplay ed android auto climatizzazione manuale e freno a mano elettronico la vettura equipaggiata con i più moderni sistemi di sicurezza come l'anti invasione di carreggiata il lettore dei segnali stradali in un set completo di airbag abs ed esp se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011 i nostri consulenti saranno a tua disposizione